E' stato l'autodromo di Monza ad ospitare il primo appuntamento stagionale della serie sprint della diciannovesima edizione del campionato italiano Gran Turismo. Ben 34 sono stati gli equipaggi scesi in pista nelle tre classi previste del regolamento e lo dato via a due gare molto combattute. Ad imporsi nella GT3 sono state le Ferrari 488 dell'Easy Race con Greco Crestani, la Mercedes AMG GT3 con i colori dell'Antonelli Motorsport di Segu Baruch. Nella GT Cup si sono divise le vittorie Lamborghini e Ferrari. Gara 1 si è disputata su due manche a causa delle proibitive condizioni meteo che hanno reso impraticabile il tracciato. Inizialmente prevista nel pomeriggio di sabato, la gara è stata interrotta al quarto giro ed è ripresa nella mattinata di domenica, ancora con pista leggermente umida, che ha visto una diversa scelta di gomme Rain Sleek da parte degli equipaggi. La classifica è stata redatta per somma di tempi delle due frazioni, da premiato all'equipaggio Greco Crestani, partiti con le gomme Sleek che hanno concluso davanti a Mancinelli Postiglione, risaliti dal settimo posto sulla griglia di pertenza, mentre in terza posizione si sono classificati Frassinetti Ghiotto. Ai piedi del podio ha concluso il secondo equipaggio Audi, Agostini, Ferrari, anche loro scattati con le Rain, sostituite poi nel cambio pilota, permettendo così una veloce rimonta nel secondo stint del giovane piacentino. Al quinto posto, primi della classe Pro AM, si sono classificati Lippi Filippi con la Ferrari 488 della Ram Out Racing, grazie ad un veloce start del pilota ex GP2 Series che ha mantenuto il comando nelle fasi iniziali, chiudendo poi davanti a Pelolini Ceccotto, Schreiner Adspeth, l'Arena Cazzaniga e comandini Zug. Sportuna invece per i guidetti De Luca scattati dalla Pol con la Honda NSX GT3 della Nova Race, ma poi penalizzati per il contatto con la Mercedes AM GT3 di Baroque Segu che ha costretto il ritiro all'equipaggio dell'Antonelli Motorsport. Beh, direi bene, meglio di così non poteva andare, ecco. Allora è stato un primo stand difficile, i primi giri era difficile fermarsi le prime due varianti, quindi l'ho presa un po' con calma. Poi man mano le gomme hanno iniziato ad entrare in temperatura, la macchina a funzionare, la confidenza aumentava, ho potuto spingere e fare gap per dargli la macchina in una posizione più comoda, ecco. E lui è riuscito a portarla a casa alla grande, quindi sono contentissimo. Vorrei dedicare questa vittoria a mio padre che purtroppo non c'è più. L'ultima volta che ci siamo abbracciati è stato dopo una vittoria qui, cinque mesi fa, quindi ecco, la dedico a lui. Duelli, sorpassi e tanta bagarre anche per la GT Cup, classe riservata alle vetture in configurazione monomarca, dove si sono imposti l'olandese Dan Peele e Fabio Vairani al volante della Lamborghini Huracan ST. L'equipaggio del Bonaldi Motorsport ha preceduto il giovanissimo Alessandro Girardelli con la Porsche GT3 Cup del Dynamic Motorsport e la Ferrari 488 Challenge di De Marchi Risitano. Nella GT4 il primo duello stagionale tra Porsche, Mercedes e BMW è andato alla casa di Zuffenhausen sia nella categoria Pro AM che nella AM. Nella maggiore c'è stato il dominio delle Cayman delle B Motors con la vittoria di Di Giusto Babini davanti ai compagni di squadra De Castro Arrigosi, mentre in terza posizione ha concluso la Mercedes AMG GT4 di Ferri Gagliardini. Nella AM invece, sul gradino più alto del podio, sono saliti Cerati Ghezzi al volante del Cayman dell'Auto Orlando, precedendo la Mercedes AMG GT4 di Magnoni di Fabio e la BMW M4 GT4 di Fascicolo Neri. Va molto bene, a parte la prima parte un po' particolare con le reins sull'asciutto ormai, però abbiamo fatto un'ottima strategia. Mattia è stato molto bravo nella seconda parte a consolidare il primato e siamo andati molto molto bene direi. Io posso dire che mi è stata data la macchina nella posizione migliore, i meccanici e il team hanno fatto un ottimo lavoro e siamo contenti così. L'importante era portarla a casa alla fine. In gara 2, la vittoria è stata ampiamente meritata da Segu Baruch, costruita sin dalle prove ufficiali che avevano visto Segu conquistare la pole. Il primo stint del pilota comasco è stato impeccabile, sempre al comando e bravo a gestire la ripartenza dopo l'uscita della safety car resasi necessaria nei primi giri per l'incolpevole uscita della BMW di Zug, toccato da un altro concorrente. Altrettanto efficace è stato Baruch nel secondo stint che non ha avuto problemi a portare la sua Mercedes AMG per prima sotto alla bandiera a scacchi, riscattando così una sfortunata gara 1 che aveva visto l'equipaggio dell'Antonelli in Motorsport incolpevolmente fuori per un contatto. Bellissimo il duello per le altre due posizioni del podio, con Agostini secondo sul traguardo che nel finale ha avuto il suo bel da fare per contenere la Honda NSX di Guidetti. Dopo l'ottimo primo stint di Ferrari, il pilota padovano ha difeso con i denti la seconda piazza che in più occasioni la giovane portacolori del team Varesino, subentrato a De Luca, ha tentato di conquistare. Tuttavia il terzo posto è un ottimo inizio di stagione per l'equipaggio Nova Race, un risultato che poteva essere ancora maggiore senza la sfortuna di gara 1, ma che l'oppone tra i favoriti per la vittoria finale. Al quarto posto hanno concluso Frassini e Tighiotto con un bellissimo finale del pilota romano, abile ad inserirsi nella lotta per il podio davanti a Mancinelli Postiglione, autori di una grande rimonta dalla quindicesima posizione di partenza. Alle spalle del portacolori di Audi Sport Italia si sono classificati Perolini Cecotto secondi del GT3 Pro AM, con un ottimo stint del giovane pilota venezuelano concluso al secondo posto ed una sfortunata fase finale di gara che ha visto Perolini penalizzato da un contatto da parte di Azpett. L'equipaggio del team LP Racing ha preceduto la vettura giamella dell'Imperial Racing di l'Arena Cazzaniga e le tre Ferrari 488 Evo di Mann Vilander, Greco Cristani e Lippi Filippi. La gara è andata benissimo, io sono riuscito a partire bene, ho gestito bene tutto, il primo stint, sono veramente contento, poi è salito a bar, ha fatto un lavoro perfetto, alla fine l'abbiamo sudata parecchio anche con la penalità fortunatamente di soli due decimi e niente l'abbiamo portata a casa, grazie a tutto il team e ci vediamo alla prossima. È stata una gara fantastica, Luca è riuscito ad andare al comando e a prendere un buon margine di vantaggio, io ho preso la vettura al comando e l'ho portata fin sotto il traguardo, sono molto contento, è stata una bella vittoria. Per Mattia Di Giusto e Fabio Babini è stato un weekend fantastico. Dopo la vittoria in gara 1, i portacolori dell'Ebi Motors si sono imposti anche in gara due, ancora una volta davanti ai compagni di squadra De Castro Arrigosi, questi ultimi hanno disputato una bella gara con Arrigosi che ha mantenuto sempre la leadership nel primo stint, ma nel finale il suo co-keeper non è riuscito a contenere la rimonta di Babini, mentre in terza piazza hanno concluso Ferri Gagliardini davanti a Romani Carboni. Nella AM invece la vittoria è andata a Neri fascicolo al volante della BMW M4 del ceccato Racing Team, davanti a Magnoni Di Fabio e dai vincitori di gara 1 Cerati Ghezzi. Molto bene, devo dire che fin dall'inizio avevo in mente di attaccare, quindi ho scaldato molto bene le gomme, già al giro di lancio ero già molto carico, ho attaccato subito i primi giri, poi ho preso ritmo, sempre più ritmo, vedevo che andavo sempre a migliorare e da lì a superare le vetture che mi precedevano e per cercare poi di portare la vettura nella migliore posizione possibile da cambio pilota. Io sono salito in un'ottima posizione con un po' di tensione perché ovviamente Nicola ha fatto un gran lavoro nel suo primo stint quindi non potevo rovinare tutto, mi sono rimasto calmo e concentrato, ho cercato di fare del mio meglio, qualche difficoltà ovviamente sempre nei doppiaggi però alla fine sono riuscito a mantenere la prima posizione con un buon vantaggio sui secondi, siamo molto felici, la macchina era veramente perfetta e ci ha portato questa vittoria, grazie. Assegnata nel post-gara la vittoria della classe GT Cup che in pista aveva visto la vittoria di Phil Vairani con la Lamborghini Huracan, l'equipaggio del Bonaldi Motorsport infatti dopo una gara tutta in rimonta è stato penalizzato per cambio pilota irregolare retrocedendo al settimo posto, lasciando il gradino più alto del podio a Francesca Di Nossi e Daniel Webster al volante della Ferrari 488 Challenger. L'equipaggio Easy Race ha preceduto le due Lamborghini Huracan di Dionisio Barri e Pegoraro Mugelli, mentre ai piedi del podio ha chiuso Alessandro Girardelli con la Porsche GT3 Cup del Dynamic Motorsport precedendo De Marchi Ricitano e Tempesta Iacone. La gara è stata abbastanza bene, siamo stati fortunati visto che noi abbiamo un po' di problemi di consumo su questa pista con quella macchina visto che va molto forte, la Safety Car sicuramente ci ha un po' aiutato, gli ho lasciato la macchina in terza posizione grazie anche alle penalità poi siamo usciti primi, lui ha amministrato la gara, è andato veramente benissimo, non ha sbagliato nulla e siamo riusciti a ottenere questa vittoria. Sono contento del risultato, è stata la mia prima corsa nella categoria GT Cup a Monza e correre con la Ferrari è sempre qualcosa di speciale. Archiviato il primo weekend della serie Sprint con la leadership a pari punti nella classifica assoluta di Agostini Ferrari e Greco Crestani, ora il tricolore GT scenderà sul tracciato siciliano di Pergusa dal 21 al 23 maggio per il primo appuntamento della serie Endurance che prevede la disputa di una gara di tre ore. Primo appuntamento stagionale per il campionato italiano sport prototipi sul circuito di Monza con lo schieramento delle Wolf GB08 Thunder che conta 20 unità, come da 4 stagioni a questa parte, da quando le vetture di Gardone e Valtrompia sono protagoniste della serie tricolore. Un connubio, quello tra Wolf Racing Course e AC Sport, che proseguirà almeno fino al 2023 portando a 6 anni la vita delle vetture preparate dalla famiglia Bella Rosa. L'uomo da battere è Giacomo Pollini, due volte campione italiano nelle ultime due stagioni che anche a Monza conquista la pole position grazie ad un ultimo giro di qualifica perfetto che toglie il miglior tempo a Davide Uboldi che scatta al suo fianco. Al via di gara 1 è proprio Pollini a mantenere la testa della gara davanti ad uno scatenato Danny Molinaro che riesce a passare Uboldi che sfila terzo alla prima variante. Molinaro riesce anche a conquistare la testa della corsa grazie ad un sorpasso perfetto in uscita dalla variante della Roggia. La lotta tra Pollini e Molinaro continua anche al secondo passaggio con il Bresciano che si riporta al comando alla staccata della prima variante. I primi tre sembrano poter scappare via con Matteo Pollini che prova a ricucire il gap. Alle loro spalle la lotta è continua con Castiglio e Lazzaroni che assieme a Bagliera, Mazzola e Belotti regalano spettacolo. Uboldi viene raggiunto da Matteo Pollini e dalla staccata della variante Ascari viene toccato leggermente dal Bresciano sulla ruota posteriore destra. Il Comasco perde posizioni e deve rientrare ai box per sostituire lo pneumatico mentre Belotti, Castiglio e Mazzola continuano a dare spettacolo. Molinaro passa nuovamente in testa mentre il tempo continua a correre sino a 12 minuti dal termine, quando Lazzaroni si gira alla roggia e porta all'ingresso della safety car. Si ricompattono le Wolf e dalla ripartenza sono attenti i protagonisti a non rischiare troppo alla prima variante, ma Giacomo Pollini rompe gli indugi alla roggia passando Molinaro all'esterno prima che Fidel Castiglio mette in mostra doti realistiche nella ghiaia nella seconda curva di Lesmo. Pollini e Molinaro lottano alla cremente mentre Davide Uboldi recupera terreno e passa in un sol colpo sul rettilineo Macripo e Castiglio, a loro volta in lotta per l'ottava posizione. Davanti a loro contatto ravvicinato tra Maduzzi e Baighiera che mette fuori dei giochi i due piloti costringendo la safety car ad entrare ad un solo giro dal termine. La gara termina in regime di safety car con Giacomo Pollini che conquista la prima vittoria stagionale davanti a Dendi Molinaro e Matteo Pollini. Per il vincitore arriva anche Lattric grazie al giro più veloce in gara dopo essere scattato dalla pole position. All'inizio è stata dura perché secondo me avevo un pelo meno ritmo di Molinaro ma sono riuscito a rimanergli abbastanza vicino dopo la safety mi ha aiutato molto sono riuscito a superarlo alla seconda variante definitivamente mi sono difeso i giri dopo poi quando ho visto mio cugino Matteo dietro di me mi è sentato un sospiro di sollievo e ho detto che adesso ce la facciamo, ce la facciamo. Poi l'ultima safety ci ha aiutato ancora di più, ho aspettato l'ultimo per passare sul traguardo per lo scadere del tempo e è andata benissimo, meglio di così non poteva cominciare l'anno. In gara 2 scatta dalla pole position il giovanissimo 15enne Rocco Mazzola affiancato da Fidel Castiglio e seguiti da Antonio Macripò e Michele Fattorini. Al semaforo verde però è Danny Molinaro a fare una grandissima partenza mettendo la sua Wolf GB08 Thunder davanti a tutti. Nel corso dei primi giri è grande lotta per il podio con tanti sorpassi che vedono protagonisti Rocco Mazzola, Matteo Pollini, Antonio Macripò e Giacomo Pollini che recupera terreno. Nel corso del quarto giro Macripò va in testa coda alla prima variante e viene sfilato pericolosamente dagli altri piloti. Prima dell'ingresso della safety car a causa della macchina di Andrea Mosca ferma sul percorso Castiglio riesce a mettere la sua Wolf davanti a Mazzola. Alla ripartenza Molinaro mantiene la prima posizione proteggendo benissimo la leadership dall'attacco di Matteo Pollini in terza piazza e Giacomo Pollini ad osservare attentamente in attesa. Lazzaroni viene infilato da Fidel Castiglio in prima variante mentre Uboldi è molto aggressivo alle sue spalle e riesce a passarlo nella tornata successiva. Il Comasco è scatenato e recupera terreno su Castiglio che non riesce a tenere alle spalle il cloricampione italiano ancora più veloce alla staccata della prima variante. Qualche problema per Giacomo Pollini che perde terreno dal cugino Matteo a quattro minuti dal termine ma l'errore arriva proprio da Matteo Pollini che finisce in testa coda alla roggia e viene passato da Giacomo e da Uboldi che va a prendersi la terza posizione. Il Comasco però taglia la variante e viene penalizzato con cinque secondi che regalano il terzo posto a Fidel Castiglio. La vittoria va a Danny Molinaro autore di una gara superlativa sempre al comando seguito da Giacomo Pollini e dal diciottenne spagnolo Fidel Castiglio. È stata molto dura perché Pollini che era dietro era vicino però va bene così sono contento adesso guardo a Perguso che è una pista nuova per me. Spero di apprenderla subito e continuare la lotta. Penso che quest'anno sia con Pollini abbastanza attirato. Questa gara l'ho gestita completamente ho visto partendo indietro non mi sono preso troppi rischi dopo due o tre giri ero lì insieme ai primi tre e poi ho mantenuto davanti avevo mio cugino Matteo non ho voluto prendere troppi rischi e forse avevo un pochino di più dopo è stato un peccato che si è che si è girato due giri dalla fine e comunque diciamo primo e secondo come prima gara non male dai abbiamo cominciato bene. È fantastico essere qui sul podio di Monza il mio secondo anno nel campionato è la prima volta sul podio sono veramente contento per il team e per le persone che mi hanno sempre supportato. È stato davvero un weekend fantastico con una vettura fantastica, veloce e credo che questo sia uno dei campionati più belli che io conosca. Tutti i piloti sono molto veloci e questo rende il campionato ancora più spettacolare. La classifica dopo il primo appuntamento stagionale vede Giacomo Pollini subito al comando con 38 punti, 6 in più rispetto a Denny Molinaro con Fidel Castiglio terzo a 16 punti, seguito da Matteo Pollini ad un solo punto di svantaggio. Tra gli under 25 Pollini e Molinaro sono appaiati a 35 punti, mentre Castiglio insegue a quota 20 con Macripo a 19, ma leader della classifica rookie. Affascinante il secondo appuntamento con il campionato italiano sport prototipi in programma per il 23 maggio sul tracciato siciliano di Pergusa. Al via di gara 1 è Igor Stefanoski, il più lesto del gruppo. Il Macedone allunga la frenata sul bagnato alla prima variante approfittando dello spazio lasciato libero dal poleman Brigliadori e si porta il comando davanti a Matteo Poloni e ad un agguerrito Jonathan Giacon che recupera subito tre posizioni. Ma nel corso del primo giro il pilota Giacon viene attaccato prima da Tavano che passa all'uscita della variante Scari e poi da Kevin Ciacon che si affianca in parabolica e riesce ad avere la meglio sul pilota della Honda Civic alla staccata della prima variante. Proprio la prima variante fa perdere terreno a Matteo Poloni che arriva lungo ed è costretto a cedere il passo a Tavano che si ritrova a secondo con la cupra di scuderia del girasole. Poco dopo è Ciacon ad avere la meglio sul pilota Race Lab in un sorpasso tutto bergamasco. Alle loro spalle si infiamma la rotta per non perdere terreno e Leonov è scatenato. Il russo passa Vattel alla roggia con l'Eston che perde diverse posizioni ai danni di Brigliadori, Buri e Reduzzi. Nel corso del quinto giro Tavano rompe gli indugi e con una manovra perfetta tra le due curve di Lesmo si porta al comando della gara passando Stefanowski che è corretto e non cerca di ostacolare il pilota siracusano nettamente più veloce. Tavano inizia a prendere il largo mentre a 20 minuti dal termine iniziano i problemi di visibilità per Kevin Ciacon costretto a correre con il finestrino abbassato a causa di un appannamento del vetro e della rottura dei tergicristalli. Inizia anche la rimonta di Erik Brigliadori che approfitta di un errore di Polonia alla roggia per passarlo prendendo la quinta posizione. La gara prosegue senza grossi colpi di scena con Valdan e Leonov che si contendono le posizioni regalando spettacolo e i primi della classe che cercano di mantenere le posizioni. Ma a quattro minuti dal termine inizia la volata per il podio. Stefanowski, Ciacon, Buri e Brigliadori aprono le danze. Buri attacca Ciacon alla variante Ascari e riesce a superare anche il Macedone. Si prova anche Ciacon che però viene attaccato a sua volta da Brigliadori. Stefanowski va dritto in prima variante lasciando strada a Ciacon e Brigliadori. Il giovane romagnolo con l'Audi approfitta di un doppiazzo per passare Ciacon e si lancia all'inseguimento di Buri. Nel corso dell'ultimo giro, Brigliadori si prende la seconda posizione passando Buri in rettilineo. Sotto la bandiera a scacchi, Tavano trionfa in solitaria davanti a Brigliadori e Buri che però è penalizzato di cinque secondi a causa di un ritardo nella procedura di partenza. Così a salire sul terzo gradino del podio c'è Kevin Ciacon. Sì, è stata una gara veramente difficile. Difficile perché il primo giro tutto andava bene. A 24 minuti dalla fine si sono rotti i tergi e poi ha iniziato a pannarsi tutto. È stata praticamente una gara a occhi chiusi. Però alla fine sono riuscito a fare un podio che era quello che contava per me, per la squadra, per iniziare bene la stagione. Domani parto secondo, un altro giorno. Vediamo come butterà il tempo perché qua cambia di ora in ora. Però sicuramente è stato un buon inizio. Tra le vetture DSG e Sabatino Di Mari a firmare la prima vittoria stagionale davanti a Denis Babuin è dal giovane Marco Butti. È andata benissimo. Diciamo che siamo arrivati giovedì sera. Venerdì mattina abbiamo saltato le prime di libere per un mio errore. Abbiamo fatto solo le seconde. Monza è abbastanza particolare, specialmente per la prima volta che ci sali sopra. Poi sali anche sul podio, quindi sono emozionatissimo. In gara 2, Mattias Vatel scatta bene dalla prima posizione ed affiancato da Cekon che invece perde terreno ai danni di Giacon e Buri. Alla variante della Roggia, primo contatto tra Kuril e Leonov che va in testa coda, pericolosamente schivato da tutto il gruppo. All'esmo è Vatel a perdere il controllo della sua onda dopo una bussata da parte di Buri, perdendo anche la testa della corsa che viene presa da Cekon prima dell'intervento della Safety Car a causa di un'uscita nella ghiaia da parte di Fantilli. Alla ripartenza Cekon mantiene la leadership, con il gruppo alle sue spalle che regala spettacolo con attacchi e difese da parte di tutti i protagonisti del TCR Italy. Vatel è aggressivo alla Roggia e non riesce a bloccare l'attacco di Giacon e Tavano, con Stefanoschi e Brigiodori in lotta alle spalle di Buri. Tra le DSG, Denis Babuin e Sabatino Di Mare lottano a centro gruppo per la vittoria di classe, senza esclusione di colpi, mentre davanti Tavano raggiunge Cekon ed entra in lotta per la leadership. Il siracusano rompe subito gli indugi e passa agilmente in rettilineo, così come Nicola Baldan passa a Stefanoschi per la settima posizione. Il Macedone perde terreno ai danni di Leonov ed Inberti, con il russo che ci prova anche su Baldan alla parabolica, ma alla peggio, finendo in sabbia e costringendo l'ingresso della safety car. Al restart Tavano mantiene il controllo, mentre Cekon e Brigiodori duellano per la seconda piazza. Il bergamasco resiste all'attacco prima della nuova interruzione causata dal contatto tra Kuril e Stefanoschi, che vede il Macedone costretto ad abbandonare la gara. Negli ultimi due giri, Brigiodori riesce ad avere la meglio su Kevin Cekon con una bella manovra alla Scari. Anche Vattel passa Cekon, che però non demorde e alla prima variante mette nuovamente la sua Hyundai sul podio. Tavano è nuovamente primo ed il podio è una coppia ed incolla rispetto a quello di gara 1. Il siracusano, tre volte campione italiano TCR, sale subito in vetta alla classifica e porta con sé e la squadra il ricordo di una grande amica di Hacisport e di tutto il mondo dei motori. Ci tenevo a far bene qua, la testa era altrove, era ovviamente alla grave perdita che abbiamo avuto. Volevo dedicare a queste due vittorie a Fiammetta. Ieri non ho trovato le parole per dirlo. Oggi mi sono scaricato un po', quindi le dedico a lei e tutta la squadra del girasole si è stretta intorno a Tarcisio. Abbiamo cercato di dare il massimo, per dargli forza. Vogliamo rialerlo presto con noi. Due volte a secondo sul podio di Monza, il vice campione 2020 Eric Brigiodori. Sono abbastanza contento. La gara di ieri purtroppo ho sbagliato io la partenza, l'ho un po' compromessa dall'inizio. Oggi invece abbiamo fatto una buona gara, partivamo ottavi per la griglia invertita, siamo riusciti a recuperare sei posizioni, poi purtroppo ci sono stati due assistenti car che hanno interrotto la gara e non c'è stato tempo per provare qualcosina in più, però sono contento. Tra le TCR e DSG cambia l'ordine, ma non i protagonisti, con Dennis Babwin che vince davanti a Sabatino di Mare. L'ex rallyista tornato in pista dopo aver esordito nel 2000 il monoposto nella Formula Renault è soddisfatto del suo weekend. Sì, abbastanza positivo. Dopo il secondo posto di oggi, siamo riusciti a vincere oggi. Ringrazio il team Boisa Corsa per l'auto messa a disposizione e poi adesso vediamo proseguire il campionato. Due volte sul terzo gradino del podio tra le DSG il comasco Marco Butti, giovanissimo pilota di Elite Motorsport all'esordio in pista. Sì, come ti dicevo prima della gara, l'importante era rivedersi sul podio. Si poteva fare qualcosina di più oggi. Forse la macchina non era a postissimo, dato che ieri abbiamo fatto gara 1 sotto un diluvio. Oggi sole, 20 gradi. Però dai, va bene così. Mi sono un po' diciamo non accontentato. Ho cercato di gestire la gara in ottica campionato. Comunque sì, per essere il mio primo weekend sono contento. Il prossimo appuntamento con il TCR Italy è in programma dal 4 al 6 giugno al Misano World Secret.